Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George Questa è mammina e questo è papino Peppa Pig! Il pancione! Peppa e George giocano con Susy Pecora e Pedro Pony Arrivano anche Rebecca e Richard Coniglio Buongiorno Rebecca! Ho un segreto da raccontarvi! Un segreto davvero? La mia mammina ha un pancione grande grande! Ha mangiato troppo? No! Ha un coniglio piccolo piccolo dentro! Mamma Coniglio! Hai veramente un coniglietto dentro il tuo pancione? Sì! Accosta l'orecchio per sentirlo Peppa! Sì grazie! Riesci a sentire il battito del cuoricino Peppa? Sì lo sento! Sta facendo boom! 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 Buu! Si sta muovendo! Guardate! Eh sì! È un monellaccio da qualche calcetto! Nei! Avete scelto il nome da dargli? Ancora no! Mi aiutereste a trovarne uno grazioso? Sì! Certo! Ciao mamma Coniglio! Posso offrirti un caffè caldo? No non posso bere caffè! Ma ti dirò avrei un certo appetito! Ti andrebbe una carota? Sono un po' stanca di carote! Ma se avessi delle patate ne mangerei! Certo che le abbiamo! Magari una patata con gelatina, del formaggio e marmellata di fragole per favore! Una patata con gelatina, formaggio e marmellata di fragole! Ma che strano miscuglio di cibi! Dobbiamo trovare un bel nome da dare al coniglietto! Sì! Se nascerà una femminuccia la chiameremo Rachel Coniglio! Non sarebbe più bello Ruth Coniglio? Roxanne Coniglio! Cotronella Coniglio! Cotronella non mi piace per niente Pedro! Sicuramente la prenderebbero tutti in giro! A me piace tanto Rosie! Rosie Coniglio! Sì! È un nome bellissimo! E se invece nascesse un maschietto? Oh! Potremmo chiamarlo... Rufus Coniglio! O Raymond Coniglio! Sicismiglio Coniglio! Sicismiglio Coniglio! No davvero! Robby Coniglio! Sì! Robby Coniglio! Grazie per le patate con la gelatina, il formaggio e la marmellata di fragole mamma pig! Figurati non c'è di che! Abbiamo trovato dei bei nomi per il tuo coniglietto! Rosie sei una femminuccia e Robby sei un maschietto! Sono dei nomi bellissimi! È un vero peccato che non possiamo darglieli tutti e due! Oh! Il mio pancione! Con tutto quello che hai mangiato non mi sembra ci sia da stupirsi! Non credo proprio papà Coniglio! Il coniglietto sta nascendo! Presto! Corriamo tutti in ospedale! Di gran carriera! Ma niente panico! Ciao! Ciao! Auguri! Hai messo tutto lo corrente nella valigia? Sì! Non manca nulla! Cuscini, candele profumate, musica yoga e cibo in abbondanza per tre giorni! Niente panico! Niente panico! Qualcuno venga ad aprirci! Sta per nascere un coniglietto! Buongiorno sorellina! Come mai in ospedale? Sto per avere un coniglietto! Sono incinta! Già, è vero! Sarà bene che entri allora! Scusate, potrei venire anch'io! Dopo che avrà parcheggiato la sua automobile! Ma non si preoccupi! Di solito prima che i coniglietti nascano ci vuole un bel po' di tempo! Fate largo! Permesso! Mia sorella sta per avere un coniglietto! Ecco il bollitore e asciugamani di ogni genere! Penso che le provviste basteranno per molti giorni! Dove posso sistemare tutta questa roba? Riportala in macchina! Non ne abbiamo più bisogno! Cosa? Papino, ti sei perso la parte più bella! Davvero? Ditemi, è un maschio o una femmina? Tutte e due! Sono amati due bellissimi gemellini! Evviva! Il giorno dopo, mamma coniglio è già tornata a casa! Ciao a tutti! Possiamo vedere i gemellini, per favore? Ma certamente, Peppa! Oh, bubba, chi bubba! Ma sono femminucce oppure maschietti? Uno e una! Un maschietto e una femminuccia! Si chiamano Rosie e Robbie! E così avete usato tutti e due i nomi, vero? Sì! Lei è Rosie Coniglio e lui è Robbie Coniglio! Sono i più bei nomi di tutto il mondo! E a trovarli siamo stati proprio noi! E a trovarli siamo stati proprio noi!